Buongiorno, sono Riccardo Collu, faccio parte della condotta Slow Food Giovanni Rebora di Genova. Il mio compito è, sono un volontario e mi occupo di trasmettere il verbo di Slow Food. Slow Food è un'associazione che è nata nell'ambito nazionale e poi diventata internazionale con un movimento. Cosa si occupa Slow Food? La filosofia si può, diciamo, riassumere in quelle che sono le parole buono, pulito e giusto. Cosa significa? Buono, innanzitutto, si occupa di cibo, ma non solo di cibo, perché diciamo che tutto proviene dalla terra. In particolare, il buono, un prodotto, deve rispecchiare la sua qualità, dalle sue caratteristiche organolettiche. Quindi, il buono deve essere riconoscibile al sapore, pulito, pulito per quanto riguarda ambiente, pulito per quanto riguarda la coltivazione, senza aggiunta di troppi prodotti che siano chimica, diciamo. Mettiamola, riassumiamo, parliamo di una parola così, chimica. Ecco, ma la chimica anche nella trasformazione, ovvero fermenti aggiunti nei derivati del latte, conservanti per quanto riguarda i nostri prodotti di salumeria, eccetera. Giusto, giusto perché deve essere anche etico, deve essere giusto nel rispetto delle persone che coltivano, deve essere giusto nei confronti del consumatore che va ad acquistare, perché la qualità deve essere disponibile a tutti i ceti sociali. È una cosa importantissima. La qualità può essere... Slow Food, per esempio, parla di presidi. Ho questo libro in mano. Qui in Liguria, io appartengo appunto alla condotta di Genova, e sono responsabile del presidio della razza bovina cabanina, una razza autoctona che si è adatta al territorio. Bene, questa è buona, pulita e giusta, perché per alimentarla ogni razza tiene pulito circa, ogni cavo, scusatemi, tiene pulito circa due ettari di territorio. Quindi abbiamo un recupero. Il buono, pulito e giusto è a 360 gradi.